Gentili telespettatori, buona giornata. Sapete le frasi fatte? Avrete sentito sicuramente dire questa è la campagna elettorale più brutta. Diciamo che questa frase, che è la campagna elettorale più brutta della storia, viene detta da almeno 15 anni. È un po' come quelle frasi tipo, non so, non ci sono più le mezze stagioni, il cane è più fedele del gatto, il nuoto è uno sport completo, fai il nuoto e praticamente stai facendo tutto, anche jiu-jitsu. Ecco, da 15 anni riecheggia questa campagna elettorale, è la più brutta della storia. Guardate un po' che riecheggia tra le persone più affini all'area culturale del Partito Democratico. Cosa vuol dire? Che è 15 anni, oltre 10 anni, che la sinistra non ne vince una di gara elettorale, però governa sempre. Pertanto le ultime campagne elettorali vengono sempre considerate pessime, soltanto perché terminano tutte con la sconfitta della sinistra. L'ultima persona, ma è solo in ordine cronologico, che ripete questa cosa è Marianna Aprile, la giornalista di oggi nonché attualmente co-conduttrice di Inonda sulla 7, insieme a Luca Telese, e lo ha voluto affermare in maniera chiara e precisa su Twitter pochi giorni fa. presto per dirlo eh o forse no, ma questa si candida a essere la campagna elettorale più brutta a cui ho assistito e ho i miei annetti. Naturalmente è una campagna dove il centrodestra potrebbe fare un cappotto, una vincita, una vittoria molto forte con la prima volta la destra al potere, allora la campagna elettorale diventa bruttissima perché, capite, se sarà brutto il governo, che ovviamente la sinistra dirà che sarà brutto, è anteceduto da una campagna brutta, dove i cattivi e brutti diventano poi quelli che governano, in una campagna elettorale brutta, fatta da gente tremenda, ecco, dove la sinistra non riesce a vincere in questa brutta campagna elettorale, dove ovviamente in questo brutto c'è anche quelli di centrodestra che fanno delle cose assurde. Ecco, questo è il messaggio sottointeso, inconscio, conscio, subliminare, non si sa, della frase più nominata dalla sinistra. Siccome i rappresentanti di centrodestra sono autori di iniziative propagandistiche che noi non gradiamo e con tutta probabilità contribuiranno a trascinarli a un netto successo alle urne, allora non ci rimane altro che derubricare questo periodo politico al peggiore che si sia mai vissuto nella storia repubblicana, per non dire dall'unità d'Italia in poi. In sostanza diventa un modo per mettere le mani avanti e sminuire preventivamente i risultati provenienti dai seggi. Una sorta di rosicamento preventivo. E la campagna elettorale diventa bella quando vince, come magari in Toscana, con la sinistra, con Emilia Romagna, con Bonaccini che vince la guida della regione, diventa una campagna elettorale fantastica. Brutta no, è brutta. Vanno a vincere, non può essere una campagna elettorale brutta, ma è brutta solo quando va a vincere il centrodestra. È una sorta di continuazione, il brutto che continua, il brutto nella propaganda e il brutto poi nel governo. Beh, naturalmente questo è telefonato, è un qualcosa. Ad esempio, quando Fabio Tuminello su Instagram scriveva delle cose contro Salvini. Questa è la campagna elettorale peggiore di sempre, nel settembre 2020, a ridosso delle elezioni regionali. Oppure nel marzo 2019, quando Carlo Calenda diede a Giorgia Meloni della Borgatara, una roba del genere. Per non parlare delle politiche 2018. Insomma, naturalmente le campagne elettorali che vengono definite brutte si accompagnano sempre a delle prese di posizione della sinistra che attacca le dichiarazioni o dei fatti dove il centrodestra viene colpevolizzato. Quindi il centrodestra dice fa una cosa, la sinistra dice guarda cosa hanno detto, è la campagna più brutta di sempre. Capito? Quindi la giustificazione della campagna elettorale più brutta di sempre viene poi data dal fatto che quel politico di centrodestra ha detto quella cosa teribile, teribile, come abbiamo visto in questi giorni che se un fatto viene raccontato dal centrodestra è una mostruosità. Quando un fatto viene raccontato dal centrosinistra va tutto bene, ma se lo racconta il centrodestra allora è sciacallaggio. Se il centrodestra utilizza un fatto di cronaca è sciacallaggio. Se il centrosinistra lo utilizza due o tre mesi prima un fatto diverso ma dello stesso tipo va benissimo. Quindi si utilizza il fatto che diventa una cosa brutta che trasforma la campagna elettorale nella più brutta di sempre perché ci sono quei cattivoni del centrodestra che fanno sciacallaggio, che utilizzano questo e quell'evento di cronaca, fini politici elettorali. E così si arriva alla campagna elettorale che poi vince il centrodestra e quelli di sinistra dicono mamma mia che brutta, hanno vinto lo so ma una brutta campagna elettorale così. Probabilmente non l'ho mai vista e io ne ho di anni e non me ne ricordo una così una così brutta. Bene, male, non so che dirvi in più di questo. Io vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata. Se volete sull'altro canale quello principale Teleitalia ci sono parecchi video da adesso in avanti per un'ora e mezza, due. Quindi vi invito, se avete tempo da perdere e avete voglia di sentire altre mie considerazioni, vi invito ad andare su Teleitalia. Cercate Teleitalia, un altro canale che è quello principale. Questo è Teleitalia seconda rete, vuol dire che c'è una prima rete che è l'altro canale. Poi questi video vengono condivisi dopo qualche ora nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia e se vi sono interessati questi video li potete condividere con chi volete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie.